Le opportunità che possono cambiare la vita dei fumatori La tomografia computerizzata a basse dosi, avviata dalla rete italiana per lo screening polmonare, è prenotabile al Centro Antifumo di Aversa ed è gratuita. Il cancro del polmone è la principale causa di morte oncologica. Il fumo di tabacco è responsabile di oltre 85% dei tumori polmonari. Si è fumatori e si vuole cominciare a prendersi cura di se stessi? Ecco da dove partire, smettendo di fumare e partecipando alle attività di screening. Lo screening con tomografia computerizzata a basse dosi è utile per la diagnosi precoce dei tumori toracici e della broncopneumopatia cronica ostruttiva. L'esame è veloce e indolore e permette di notare eventuali noduli polmonari di piccolissime dimensioni, nell'ordine dei millimetri. La tomografia computerizzata a basse dosi rappresenta uno strumento di prevenzione primaria delle patologie legate al fumo, polmonari e cardiovascolari. Il Centro Antifumo Quit di Aversa partecipa al reclutamento dei pazienti in collaborazione con la UOC di Pneumologia Oncologica Azienda Ospedaliera dei Colli, Monaldi di Napoli. Criteri di inclusione Da 55 a 75 anni Forte consumo di sigarette Assenza di tumori da almeno 5 anni Criteri di esclusione Patologie croniche severe Gravi problemi psichiatrici Uso sostanze stupefacenti Ricorda che il tumore del polmone è un tumore difficile da curare, ma per fortuna facile da prevenire. Afferra le opportunità gratuite che ci possono cambiare la vita Grazie a tutti